Io vi ho sempre fatto sapere che la liturgia della Chiesa Cattolica segue in modo pedisseco quelle che sono i miei movimenti qui, in questa ultima parte della mia esistenza. Infatti, oggi e domani si celebrano due cose fondamentali qui, prima nella mia parrocchia e poi nella città di Saronno. La prima cosa riguarda oggi e siamo esattamente a 41 giorni da quando io parto in aereo da Malpensa per andare pellegrino a Gerusalemme e 41 è il valore esatto della parola amor o della parola Roma, che sono la sintesi delle due figure che esistono in me, uno e Trino, a seconda che io prenda le prime tre lettere del mio nome e una del cognome o viceversa. Se io prendo prima il mio nome come Rom e aggiungo la A di Amodeo, viene fuori Roma, se invece io prendo per prima cosa il verbo più importante dell'essere, amo, e poi lo prendo da Amodeo e prendo poi il nome R, ho l'amor e vale sempre quei 41 giorni che mancano esattamente al mio gesto di amor per tutti voi. La Chiesa proprio oggi celebra il funerale, non avvenuto oggi, ma la ricorrenza di un funerale per una persona del coro, una Maria Pia Legnani che è molto collegata a me per tutta una serie di condizioni che riguarda la famiglia Legnani, che nel suo cognome esprime il Legnani, bastonani. Bene, questo che facciamo oggi, proprio in ricorrenza di un morto nella cantoria di Cassina Ferrara, è l'anticipazione di un morto che sono io e che parte tra 41 giorni da oggi per la sua via crucis di 14 giorni e poi la sua ascensione in cielo. E il giorno di domani, in Pompamagna a Saronno, si celebra il trasporto della croce lungo tutta via Roma. La croce è prelevata in una chiesa dove sta tutto l'anno ed è portata con tutto l'insieme dei sacerdoti di Saronno in Pompamagna. E per la seconda volta, proprio io, insieme al coro, celebreremo accompagnando con i canti liturgici questo evento. Ora, mentre Dio accompagna in questo modo, domani, quando mancheranno 55 giorni alla mia morte, perché oggi ne mancano 56 e i 55 che mancano si riferiscono domani proprio alla croce che patirà Zerac. Zerac, quel figlio di Er e Onan che deve aspettare che il padre prenda il suo posto per mettere al mondo un romano che si chiamerà Zerac vale 55, come il valore di Genesi, che è domani proprio nel segno dell'esaltazione della Santa Croce. E ditemi voi, di quale croce si esalta domani, dopo che oggi esaltiamo qui nella nostra zona la morte di una persona del coro. Ecco, io ora voglio farvi vedere come veramente tutto indichi in me la presenza del padre. che, visto che il mondo sovratterreno nel nostro è rappresentato dal nostro proprio padre, quello che vale in me è mio padre, è Luigi Amodeo, nato 7-7-7. Vediamo il calcolo dei giorni di vita di mio padre. Nato il 7-7-7-7 è morto il 5-6-83. 1983-1907 sono 76 anni compiuti al 7-7-83, pari a 27.740, ai quali bisogna aggiungere 76 quarti uguali a 19 giorni bisestili. Dunque, il numero dei giorni esatti è 27.759. ma a questi sono da sottrarre i 33 giorni in quanto il 5 giugno del 83 dista 33 giorni dal 7 luglio del suo compleanno. Pertanto, 27.759-33 porta esattamente a 27.726, che è un numero speciale, spettacolare. Infatti, il 27.000 nel 27 è 3x3x3, nel 1000 è 10 al cubo, quindi è la potenza trina che si basa sul Dio uguale 10. Ma i 726 di giorni aggiunti come dettaglio del 1000 indicano nel 26 esattamente il termine Dio, che crea in sette giorni assoluti, ossia in 700 giorni. Vediamo ora il calcolo dei giorni di vita di me, il 22 dicembre del 2012, quando io dico che sarà giusta la mia morte. Io ho nato il 25 gennaio del 38 e morituro il 22 12 2012. 2013-1938 sono 75 anni al 25.1 del 13 e sono pari 27.375 a cui bisogna aggiungere 19 giorni bisestili, che portano il totale a 27.394 ai quali ora sono da sottrarre i 34 giorni esatti che non ci sono e che mancano al 25.1 del 2013, quando è il 22 dicembre 2012. Dunque 27.394-34 è uguale esattamente a 27.360 e questo è un numero proprio ideale per romano. Infatti il 27.000 è nuovamente trino a livello di 3x3x3, mentre il 360 esprime nel ciclo 10 di Dio quel 6x6 che è proprio la relazione intima nel 66 che è il valore cabalistico di romano. Ora vediamo la differenza in giorni di vita che passano tra i giorni totali di vita di mio padre e i giorni previsti per la mia vita. Sono esattamente 366 e vediamo qual è il significato reale. Il padre di romano visse un anno di 365 giorni e un giorno in più, essendo esatto, perché Luigi Amodeo in Luigi è 54, in Amodeo è 47 e 54 più 47 fa esattamente 101, dando valore di anno, mese e giorno alle cifre abbiamo un anno e un giorno in più. Questi 366 giorni indicano esattamente la trinità assoluta 300 del padre di romano che è uguale a 66 e la indicano nel 366, pertanto mentre 27.360 che sono i giorni di vita che avrà Romano il 22 dicembre di questo anno sono la perfetta trinità di romano che è data da 3x3x3 per 3 diviso 3 più 3x3 per 3 diviso 3 più 3x3 e vedete che una vita conclusa in quel giorno lì è la perfezione di una vita trina in tutti i suoi elementi. ma il Dio in lui non è il personaggio di romano ma è proprio rappresentato da suo padre perché 27.726 rivela appunto Dio 26 nelle 26 unità più 77 centinaia assolute che sono proprio il perdono di perdonare 70 volte 7 più 2 volte quel 10 elevato a 4 che è la base 10 di Dio l'unità e trinità di Dio ma vale 2 volte una per il padre e l'altra per lo spirito santo ciascuno dei quali esiste a dimensione 10 elevato a 4 ossia 10.000 ecco avete visto il disegno pone proprio in essenza due figure di un padre e di un figlio il figlio è trino in se stesso ma è Dio in suo padre esattamente come in Zerac in Genesi 38 figlio nominale di R e O Ro e esce con una mano figlio nominale di Romano ma Romano non c'è perché il Dio creatore non è Romano ma è suo padre e espressamente nella vita di mio padre si vede tutto ciò mio padre si paralizzò il 22 maggio all'arrivo del santo padre boitigua ufficiale a Milano per la prima volta dopo che era diventato papa arrivava il papa e si paralizzava papà a questo relativo a mio padre corrisponde la paralisi della via crucis che farò io a Gerusalemme sarò paralizzato a Gerusalemme in questa via crucis io pure per 14 giorni e come mio padre dopo 14 giorni ascese in cielo io salirò in cielo sarà una salita reale in cielo perché nei miei progetti io ho un aereo di ritorno che mi riporta in Italia ma non sarebbe imprevedibile anzi tutto sembra prevederlo che in quel giorno il Cristo venuto in un vero povero Cristo attraverso questo povero Cristo muore e si fa uccidere per la seconda volta per il bene di tutti